Ciao a tutti ragazzi sono GTTV e benvenuti in questo nuovo video dove come avete detto dal titolo vi farò vedere questo nuovissimo glitch da fare in solo, è una versione aggiornata di un glitch che ho già portato perché l'avevo portato con appunto la torre del CEO ma molti non andava quindi adesso vi porterò il glitch aggiornato dove appunto non utilizzerete il CEO ma invece il vostro appartamento che dovrà essere obbligatoriamente un Eclipse Tower con interni modificabili, i requisiti li avete visti a schermo vi ho fatto vedere anche cosa facevo io quindi per partire con il glitch dovrete andare nel vostro bunker, entrare nel vostro com, nel vostro com ovviamente ci dovrà essere la vostra auto che vorrete duplicare, a quel punto ci entrate dentro, uscite fuori con quest'auto, la spostate dal parcheggetto che dove appunto ve la mette il gioco automaticamente, io vi consiglio ragazzi di duplicare o auto di Bennis oppure auto dell'Arena War come sto facendo io, se no il gioco vi calcola solamente le modifiche e quindi insomma ve le fa vendere di meno, adesso ragazzi una volta che l'avete cacciata fuori consiglio personale vi cambiate di abito una volta e attendete il caricamento giallo in basso a destra, quando vi ha fatto il caricamento giallo in basso a destra uscite dal bunker normalmente, adesso ragazzi dovrete semplicemente teletrasportarvi il vostro appartamento se non sapete farlo vi faccio vedere come si fa, allora in primis dovrete avere le icone blu sulla mappa, se non ce l'avete dovrete andare sul menu interazione, andare su nascondi opzioni e tutte quante dovranno essere sul mostro e così avrete questi pallini blu, adesso ragazzi vi teletrasportate all'attività blu, mi raccomando all'attività blu più vicino al vostro appartamento, quindi se utilizzate l'Eclipse Tower fate come ho fatto io ovvero questa missione, quindi adesso ragazzi dovrete semplicemente attendere che vi porti nella lobby di attesa, una volta nella lobby di attesa andate dentro una community ragazzi e trovate un giocatore in mira diversa, io consiglio come community GTA 5 Italia se siete su Xbox utilizzate un amico tra di voi che è in mira diversa, adesso ragazzi premete partecipa alla sessione, vi riporta al gioco, fate accettare il primo messaggio e rifiutate il secondo, se accettando il primo messaggio vi fa cambiare la sessione perché siete stati sfortunati e avete preso una persona a caso che era nella vostra stessa mira, per quello all'inizio vi ho detto mettetevi in mira manuale, adesso ragazzi una volta che vi siete teletrasportati andate all'interno del vostro appartamento e qui ragazzi inizia la parte un po' più complessa ma non è per nulla complessa se seguite bene i passaggi e li fate insomma velocemente, quindi adesso ragazzi cosa dovrete fare, dovrete entrare nell'appartamento, aprire il menu interazione andate su stile dell'appartamento, ne selezionate uno così che vi fa l'anteprima, ovviamente non vi scalerà i soldi, quindi ne selezionate uno, adesso ragazzi una volta che l'ha selezionato vi riandate su quello dove c'è scritto posseduto senza cliccare nulla, quindi riandate su quello che c'è scritto posseduto senza cliccare nulla, fate due volte il tasto PS, vi porterà alla schermata di prima della community, se non vi ci porta rifate tutto quanto da capo ovvero la ricercate, fate partecipa alla sessione, accettate il primo messaggio e sul secondo messaggio aspettate 5 secondi e poi lo rifiutate, una volta che lo rifiutate andate su opzioni online, criminal enterprise starter pack, tornate tutto quanto indietro, ripremete opzioni, riandate su online, andate su attività, vi attività create da rockstar e avviate una qualsiasi gara oppure missione a caso, ad esempio io ho avviato la prima dell'arena war, vi usciranno questi due messaggi e voi li accettate, e adesso ragazzi dovrete semplicemente ripremere opzioni, andare sulla mappa, una volta sulla mappa dovrete premere il touchpad, così appunto vi fa allargare la mappa, e adesso ragazzi dovrete teletrasportarvi a un'iconcina blu, insomma l'iconcina blu più vicino al vostro nightclub, come ho fatto io, e rifate il passaggio di prima, ovvero vi decite le trasportate, quindi la avviate, premete quadrato, una volta che l'avete avviata nella lobby di attesa, premete partecipa alla sessione, sono una persona in mira diversa, accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo, se ragazzi c'è qualsiasi problema chiedetelo nei commenti, oppure entrate nel gruppo telegram, link nella descrizione, nel commento bloccato in alto, lì sicuramente qualcuno vi aiuterà se appunto non ci sono io, entrate nel canale telegram per rimanere aggiornati, quindi adesso ragazzi vi dirigete al vostro nightclub, noterete che non ci sarà il pallino blu, quindi ragazzi vi avvicinate e insomma vi risuccherà automaticamente, selezionate adesso il garage dove avete le RH8, adesso salite su una RH8 a caso, guardate bene perché adesso premendo R2 ovvero il tasto per accelerare, uscendo fuori mi farà uscire a piedi, quindi è come se fossi uscito a piedi e la RH8 scomparirà, quindi adesso ragazzi se riesce tutto quanto bene, appunto spawnerete a piedi, mi raccomando non dovrete avere la minimappa, capite che lì ci è riuscito se non avete la minimappa, adesso ragazzi una volta fuori chiamate la Pegasus e richiedete il vostro elicottero, io in questo caso ho richiesto il buzzard d'assalto ma va benissimo qualsiasi elicottero, una volta arrivato ragazzi vi teletrasportate vicino al vostro elicottero, quindi rifate il teletrasporto, la solita cosa, quindi fate partire sulla sessione eccetera, una volta che vi siete teletrasportati vi dirigete ragazzi all'Eclipse Tower, adesso ragazzi come vedete sarà buggatissima e voi dovrete atterrare in mezzo alle due ventole, ognuno ha un posto diverso, comunque li ho provati un po' tutti e funzionano, quindi come vedete io sono atterrato qua, adesso ragazzi una volta atterrati premete freccia in giù, selezionate un personaggio della storia e attendete circa 3-4 secondi su questo messaggio e poi lo rifiutate, se ragazzi non vi scendete all'elicottero e vi si bugga che non vi fa muovere, andate su opzioni online, criminal enterprise starter pack, lo avviate e poi tornate indietro e sarete sbuggati e poi potrete trovare un'altra posizione, quindi come vedete ragazzi adesso l'ho fatto qua, ho avviato appunto un personaggio della storia e sarò buggato così, questa parte ragazzi me l'ha passata gli amici dei The Glitchers Crew, trovate il loro canale nella descrizione per questo ultimo pezzo perché non sono riuscito a registrare la clip di quest'ultimo pezzo, non so perché, e comunque ragazzi una volta che come stavo dicendo vi ha appunto sbuggato e vi è ricomparsa la mia mappa, vi teletrasportate al bunker, esattamente come prima, quindi selezionate un'attività vicino al vostro bunker e semplicemente ragazzi una volta nella lobby di attesa fate partecipa alla sessione su una persona a caso in mira diversa, accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo, esattamente come abbiamo fatto fino ad ora, quindi il glitch non cambia di una virgola e riuscirete a duplicare tranquillamente ragazzi una volta che ci avete preso la mano un'auto ogni 5-6 minuti, quindi ragazzi adesso dovrete entrare nel vostro bunker, dovrete salire sulla vostra auto che sarà rimasta lì, adesso ragazzi quando ci salirete se ha la targa noterete che cambia la targa, se non ha la targa fa nulla è uguale, adesso quest'auto la avvicinate al vostro com ma non c'entrate la parcheggiate qui vicino, entrate da dietro nel com, mi raccomando è fondamentale e poi uscite da davanti come ho fatto io, se non lo fate ragazzi vi farà un caricamento infinito quindi fate bene come ho fatto nel video, adesso ragazzi una volta che avete fatto la mettete dentro, premete freccia destra, vi dirà che è pieno, voi premete X quindi accettate, l'originale sarà da dove avevate preso la RH8 quindi nel mio caso nel B3, questa qua è la copia, per continuare con i glitch la mettete fuori, uscite fuori, vi teletrasportate al vostro appartamento e ripetete da capo, quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se siete nuovi ovviamente iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche, lasciate un bel mi piace, entrate nel canale Telegram, gruppo Telegram, vi ringrazio ancora per la visione e noi ci vediamo al prossimo video!